Anche nella Muti guarda generazioni di fenomeni. Non ha capito una parola. Fenomeni. Siete favorevoli o contrari al matrimonio fra i eterosessuali? Beh, veramente sono contrario, forse il matrimonio fosse come prima è meglio, no? Oggi dico che è giusto dare diritto a tutti uguale, non... Ma lei è un eterosessuale, signor? No, fino ad oggi no. Favorevole. Sei eterosessuale? No. Quello che vogliono fare, fanno. Ma se Cristo l'ha fatto in quel modo vuol dire che... Lei è un eterosessuale, signore? No, no, no. Lei, signore, è favorevole o contrario al matrimonio fra i eterosessuali? Comunque non siamo contrari. Se il mondo gira così vuol dire che va bene. Lei è un eterosessuale? No, non so che buono, non so che... Tu sei un eterosessuale? No. E' un problema che non mi sento di discutere perché non lo conosco. Quindi lei non è un eterosessuale? Io... Scusi se mi permetto di fare la domanda. No, guardi, è un problema che non mi sento di dare giudizi. Posso rifare la domanda? Lei è un eterosessuale, signore? No, è un problema di cui non ritengo di aver giudizi. Lei, signore, è favorevole o contrario al matrimonio fra i eterosessuali? Per me, se sono contenti loro, io sono per me indifferente. Lei è un eterosessuale, signore? No, no, assolutamente. Favorevole o contrario, signore? A che? Al matrimonio fra i eterosessuali? Non favorevole. Lei è un eterosessuale, signore? No. Diciamo che sono contrario. Lei è un eterosessuale, signore? No, signore. Si vede benissimo. Eterosessuale. Indifferente. Lei è un eterosessuale? Io sono normale. Guarda, io cosa ti posso dire? Non è una cosa che mi dà fastidio, comunque. Lei è un eterosessuale? No, no. A parte che sono di Venezia, sono qui di passaggio, quindi non potrei neanche... Sono favorevole. Sei un eterosessuale? Come? Guarda lì, sei un eterosessuale? No. Sicura? Sì. Sei favorevole o contrario al matrimonio fra i eterosessuali? Contrarie. Faccio una domanda indisponente forse, sei un eterosessuale? Cosa? Sei un eterosessuale? No. Decisamente? No. Favorevole? Sei un eterosessuale? No. Ognuno è libero di fare quello che crede nella vita. Favorevole. Favorevole. Tu sei favorevole? Sì. Ma tu sei un eterosessuale? Sì. Sì? Sì o no? Sì. Tu sei un eterosessuale? No, io non sono un eterosessuale. Sono sempre una donna come quelle di una volta, purtroppo. Favorevole. Sei un eterosessuale? No. Decisamente? Decisamente. Patrimonio fra i eterosessuali. Dunque, chiunque può fare quello che gli parla, importando che certe cose non si fanno davanti al pubblico. Io no. Ma non ti so fare, scusate. No, no, non che inizia mai. Tu dici che inizia mai fosse un eterosessuale? Beh, sono giusto. Io sono un eterosessuale, quindi. Non lo so. Non prendi posizione. Cosa pensi del matrimonio fra eterosessuali? Non lo so, non mi riguarda. Sei un eterosessuale? No, non penso. Tu? Ma io sono favorevole perché credo che ognuno abbia diritto di scegliere la propria vita. Senti, ti faccio la domanda fatidica. Sei eterosessuale? No. Generazione di fennomeni. Siamo noi! Madonna, guarda che fenomeni! Siamo noi!